Che succede giorno 4? Giorno 4 in previsione dell'iniziativa regionale che si terrà a Palermo il lunedì 7 novembre sulla questione, chiamiamola in sintesi caro bolletta per sintetizzare, ma è una questione molto più ampia che sta creando un mare di problemi non solo alle aziende che sono costrette a chiudere perché non riescono a sopportare i costi non solo delle bollette ma anche più in generale i costi che vengono dall'aumento delle materie prime, da un processo inflattivo che sta determinando una moria di piccole attività che è preoccupante, significa disoccupazione, pari di famiglia che perdono il lavoro e così via. In funzione di questa manifestazione si stanno organizzando nei vari comuni della provincia di Palermo ma un po' in giro per tutta la Sicilia, noi chiaramente lo facciamo per la provincia di Palermo una serie di incontri con gli operatori ma anche con le istituzioni perché stiamo chiedendo alle istituzioni di essere assieme a noi nel cercare di sconfiggere un malessere che è peggio della pandemia visto e considerato come stanno le cose e che si sintetizza, caro bolletto, perché siamo ormai tutti convinti che l'aumento dell'energia elettrica e quindi dei costi in questa maniera così sconsiderata in parte è frutto di operazioni finanziarie e non di vero e proprio costo quindi non si può fare pagare alla gente che lavora, alle famiglie perché nelle famiglie la bolletta si è triplicata non si può fare pagare il costo di operazioni di tipo finanziario speculativo legate sia alla guerra in Ucraina, noi siamo contro la guerra però ci mancherebbe bisogna stare attenti a quello che succede, alla nostra economia, ai nostri lavoratori, alle nostre piccole aziende che sono un pagemonio insormontabile. Un'altra cosa, giorno 4, giorno 4 faremo questa iniziativa a Partinico, al Palazzo del Carmine con tutti gli operatori ma con tutti i cittadini che vorranno partecipare alla manifestazione hanno aderito tutte le sigle datoriali da Confindustria alla più piccola e hanno aderito anche il mondo delle rappresentanti sindacali e dei lavoratori quindi CGL, Cisle, Willi, quindi sarà una manifestazione imponente di forza e che vedrà a Partinico l'incontro con l'istituzione e quindi la solidarietà dell'istituto comunale dell'ente comunale con questo tipo di iniziative.